Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Qualche giorno fa le cronache irpine hanno riportato la notizia del sequestro da parte dei carabinieri di un solo pip nel comune di Chianche diventato ricettacolo di rifiuti pericolosi. Si dà il caso che quell'area, che poi rientra nella DOGC del greco di Tufo, sia la stessa prescelta dall'amministrazione comunale per l'insediamento del contestatissimo biodigestore. Apriti cielo, il sindaco Grillo ha gridato al complotto. È un attacco politico addetto al nostro operato, ma il progetto dell'impianto rifiuti andrà avanti. Cosa dire? Un complotto politico ha suon di monnezza? Ma sì, tutto può essere. Monnezza per monnezza, chi più ne ha, più ne ha carezza. Grazie a tutti.